Ciao ragazzi amico, oggi siamo qua per ornarti. Oggi parliamo di Roma Napoli sera 2. Poi, io credo che aveva ira, avevo molto bene, non voglio fare la reaccia perchè non ho visto aveva ira e non voglio farla proprio, proprio no, non voglio farla. E niente, in Napoli ci sapea per culo, io già lo sapevo che la barriga finiva male, io già lo so che finiva male la barriga. E questa cosa non mi piace venire perchè ogni volta ci sono qualche voce, non è possibile che un fai una barriga, che la barriga fai una barriga e prendi sacasso di barriga. Noi vediamo su quella barriga, e sai che se non andavo al centro league che giungo io chiunque il canale. E lo faccio eh, non dico grazie, se noi andavo al centro league io chiunque il canale. E lo faccio veramente eh, ma sto chiamando. Io vedrei che la lomba che gioca bene, non che in Napoli ci sapea per culo signore, in Napoli ci sapea per culo. Perchè, perchè uno può fare una barriga e 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 una barriga. Non puoi dire, non puoi dire tre parole. Perchè tre parole, ragazzi e voglio via per culo. Perchè io fai, no? Vabbè fai, uno, due, quattro, cinque gol, cinque gol. Non puoi fare cinque gol. Cinque gol, ti devi avere curaggio e vuoi. E il motivo è quello, ragazzi. E quello è il motivo. A fare una difesa guerra a merda. Guerra a merda, proprio, che ti si porta più cara. Cioè, io... Cioè, dite voi che la lomba faccia più riga o no, ok. Dite voi, e con me io ho finito il valore. Ciao signore.